Ma davvero, come si vede in alcuni film, questa dimensione un po' romanzata dell'esistenza, le popolazioni più povere, certi poveri, certe popolazioni, certe situazioni, certe etnie, che hanno poco, hanno davvero poco, però hanno capito il senso di alcune cose e sono più felici, in mezzo alla natura, di noi che invece viviamo in queste città affollate, stressanti, lavoro, corri qua, corri là. È vero questa cosa? Beh, c'è chi ha fatto un'indagine molto ampia, molto molto ampia, andando in qualche modo a misurare la qualità, la percezione, la qualità di vita, la qualità di vita, ma non materiale, perché lì è ovvio, chiaramente la popolazione povera, non etnia povera, materialmente sta peggio, ma psicologicamente come stava? E ahimè non è vero, cioè, la realtà dei fatti è che chi è povero è meno felice delle persone che vivono in società benestanti. Tuttavia, c'è un però. Il però è che quando queste stesse persone, in difficoltà economica, raggiungono un livello di benessere sufficiente, baserano un benessere, non un agio, ma comunque riescono a sfangarla, arrivare a fine mese, a comprare la loro piccola casetta o il loro affitto, cioè avere quelle piccole cose che paiono sufficienti, a quel punto si equilibra tutto e per cui altri fattori ai quali invece noi diamo molta importanza, come gli aumenti, le gratifiche, più soldi, più cose, non portano maggior felicità rispetto agli altri. Questo perché? Perché siamo molto adattabili, ci adattiamo a tutto, questa è la nostra forza come esseri umani, riusciamo ad adattarci all'ambiente, ahimè questo adattamento anche in qualche modo implica anche l'assuefazione, l'abituarsi velocemente a ciò che abbiamo, a ciò che possediamo e ciò che prima ci dava felicità, in realtà smette molto velocemente di avere quella qualità e ci vuole qualcos'altro per tirarci su di morale, per suscitare il nostro interesse, per renderci felici. probabilmente nelle popolazioni più in difficoltà hanno più facilità a raggiungere un livello di benessere con poche cose e quelle se le fanno bastare e in questo riescono a essere forse più sereni e più felici. Alla prossima pillola!